Un ragazzo di 21 anni aveva organizzato il suo suicidio, è salito su questo palazzo e si è lanciato nel vuoto. Sono stata sul luogo dove Simone si è lanciato anche perché questa volta è successo molto vicino a casa mia e io so che adesso tutte le volte che passerò io lo guarderò ricordando e immaginando questo ragazzo sul tetto che si lancia nel vuoto. Per me questo palazzo è diventato il monumento alle vittime dell'omofobia. Il motivo per cui Simone si è lanciato in questo vuoto non lo dobbiamo ricostruire, ce l'ha scritto lui e dopo alcune parole di amore nei confronti del nostro paese dicendo che l'Italia è un paese libero e democratico Simone ha detto che lui aveva la paura dell'omofobia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.